Inter-Corotone non è una partita qualunque, è una sfida storica per il club pitagorico, che mai ha duellato con i nerazzurri fino ad oggi. È una partita in cui le due squadre si giocano tantissimo. Ha tutto da perdere l'Inter del traghettatore vecchi. Sul momento no dell'Inter nazionale si è detto e scritto tutto, l'unica cosa che conta per Riccardi e compagni adesso è il successo. Per spezzare il momento no è l'andamento da retrocessione delle ultime cinque partite di campionato, periodo in cui i milanesi hanno raccolto anche meno del Crotone che invece nelle ultime due giornate ha conquistato gli stessi punti della Roma. La squadra di Davide Nicola riparte proprio da qui e dalla voglia di inanellare il terzo risultato utile di fila che potrebbe proiettare gli squali oltre la zona retrocessione già questa domenica. È il bello della Serie A in cui tutto resta in bilico fino all'ultimo secondo di gara come tra Inter e Crotone. Sulla carta una gara impossibile in campo, tutta un'altra cosa, almeno così sperano i tifosi calabressi. Molti di loro saranno presenti anche a San Siro, come fecero un anno fa contro il Milan. Era la Coppa Italia, era un altro Crotone, ma la voglia di far venire brividi ai più quotati avversari sarà la stessa. Tra i pitagorici Mesba dovrebbe partire dall'inizio con Martella pronto a subentrare. Nel tridente possibile panchina ancora per Palladino ed inserimento dal primo minuto di Tonev. Trotta e falcinelli intoccabili. Alessio Buompasso per la Cinus24.